La famiglia Ferragni si allarga. No, nessun nuovo baby Ferragnez, ma ancora più sorprendentemente spunta un fratellino per Chiara. Da tempo siamo abituati a vedere e conoscere tramite i social tutta la famiglia dell'influencer, la madre Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca e il padre Marco. Ma allora chi è il fratello che appare in una delle stories di Chiara intenta a giocare con il piccolo Leo? La soluzione arriva dai video postati subito prima. A casa Ferragnez è in corso una riunione di famiglia. Oltre alle sorelle c'è anche il padre di Chiara. Marco Ferragni, separato dalla madre dell'influencer da anni, gioca con il nipote. L'ipotesi più plausibile sembra quindi quella che il bambino sia il frutto di un nuovo legame dell'uomo. La conferma pare arrivare poco dopo. Mentre nonno e nipote giocano, si sente infatti in sottofondo un bambino chiamare papà. Altro ponte, arrivo! E poco dopo, eccolo spuntare in un'altra inquadratura. Mistero risolto? Sono in parte. Perché Chiara non ne ha mai parlato fino ad oggi?